Azione Nazionale e Napoli Capitale scendono in campo sulla diatriba che vede contrapposti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il premier Matteo Renzi circa il commissariamento dell'area di Bagnoli. Le compagini che vedono la loro presenza in consiglio comunale con Andrea Santoro ritengono che la situazione debba oggi essere superata, esprimendo anche il proprio appoggio per il superamento dell'attuale contesto in cui versano le casse comunali sottoposte, come molti altri comuni d'Italia, ai numerosi tagli attuati dal governo. Da Azione Nazionale e Napoli Capitale arriva quindi un appello a Palazzo Chigi affinché si riprenda la strada del dialogo con le istituzioni di Palazzo San Giacomo. Ascoltiamo Salvatore Runghi. Questa è una città che continua ad essere allo sbando perché il nostro sindaco non risponde alla città, però ci sono due questioni sulle quali noi non ce la sentiamo di dargli torto. Il governo nazionale non può tenere chiuso in cassetto 308 milioni destinati a questa città che potrebbero e dovrebbero essere utilizzati per Scampia, per il centro storico, per le nostre scuole e invece sono bloccati perché Renzi ha avviato uno scontro personale con il sindaco De Magistris. E secondo la questione non è tollerabile che il presidente del Consiglio di Governo commissari di fatti una parte della città. Intervenuti il consigliere Andrea Santoro ed Enzo Rivellini. Noi abbiamo bisogno che chi rappresenta le istituzioni a cominciare dal sindaco di Napoli faccia le battaglie e noi siamo pronti a farle nelle sedi istituzionali. Quindi noi condividiamo la necessità di superare questa fase di commissariamento per quanto riguarda Bagnoli. Lo strumento del commissariamento può essere utile ma se fatto di concerto con quelle che sono poi le prerogative dell'amministrazione comunale, in particolare del Consiglio Comunale. Noi crediamo che questi due, uno Puzza e un altro Fete, la devono smettere. Bisogna pensare ai bisogni della città, bisogna pensare al Mezzogiorno d'Italia. Ci sono delle statistiche veramente sconfortanti. L'ultima che sembrerebbe di poco conto che tutti gli studenti che hanno fatto i test di medicina, tutti gli studenti medionali che hanno fatto i test di medicina si sono recati al nord, è un'altra dimostrazione dell'abbandono del sud.